la direttissima sky race trento montevondone uno spettacolo verticale dal cuore della città alpina sul monte bondone l'alpe di trento una disciplina la sky race 9 km 600 metri in verticale da trento a vason montevondone a quota 1651 metri 1456 metri di dislivello tre ore il tempo massimo un ristoro i protagonisti saranno loro gli sky run la direttissima sky race trento montevondone il 26 agosto 2016